Presentate le liste, adesso i candidati sono davvero in campo e devono trovare il consenso. Lei come capogruppo uscente del Partito Democratico ha una responsabilità in più? È una responsabilità in più che sto anche dimostrando con i fatti. E che dire? Dire che in questa competizione elettorale il PD, il centro-sinistra, si trova compatto, unito, forte, a differenza di cinque anni fa, per cui questo potrebbe rappresentare per l'amministrazione uscente un pericolo in più. E quindi siamo coscienti di quello che facciamo, delle forze che sono in campo e crediamo anche che la cittadinanza non possa dimenticare di quanto è accaduto in cinque anni. Uno soprattutto il fatto di avere 60 milioni di euro di debiti, sono tantissimo, dicono lunga, su come ha gestito le risorse pubbliche questa amministrazione, ma soprattutto le tante cooperative sociali e le aziende che ancora vantano del denaro dalla nostra amministrazione. Per cui la città non deve dimenticare quanto è accaduto, anche lo scandaloso appalto dei rifiuti. Per cui dico, non dimentichiamo, siamo compatti e dopodiché la città dovrà decidere chi dovrà amministrare per i prossimi cinque anni. Una particolare attenzione, voi l'avete nei confronti delle opere pubbliche, che l'amministrazione sta inaugurando e che invece voi dite sono spot elettorali. Ma non c'è bisogno che lo dobbiamo dire. La cittadinanza sa che Giorgino si sta appropriando di tutto quello che c'era del centro-sinistra e sta dicendo che fa parte della sua amministrazione. La cosa certa è una sola, che Giorgino non ha messo in campo per i prossimi cinque anni una opera pubblica. E questo dimostra proprio la loro superficialità nel gestire la cosa pubblica e nel programmare il futuro di questa città. Ecco perché dico, se non siamo in grado ora di decidere un'amministrazione seria che potrà veramente far emergere questa città, partendo soprattutto dallo scandaloso appalto dei rifiuti, noi dobbiamo restituire ai cittadini la tassa sui rifiuti che stanno ingiustamente pagando. Dobbiamo garantire alle imprese un immediato pagamento di quanto a loro spettante, subito, ma questo servirà per far ripartire l'economia.